Rieccoci di nuovo a Sono sempre da solo e continuiamo ad approfondire l'argomento che ci ha coinvolto la volta precedente, cioè le tariffe come rimodulate e riformulate dal decreto ministeriale 150, decreto ministeriale attuativo della riforma cartabile. Una caratteristica del decreto ministeriale 180 che possiamo riscontrare diversa rispetto alla procedura precedente riguarda la proposta di mediazione. Voi sapete che la proposta è stata rimodulata e leggermente modificata soprattutto nella parte che riguarda la proposta nella mediazione telematica. In linea di massima grandi modifiche sull'articolo 11 e l'articolo 13 non ci sono state. Tuttavia il legislatore ministeriale ha ritenuto di non replicare quanto previsto nel precedente decreto ministeriale 180 del 2010 per la parte che prevedeva la maggiorazione del 20% in caso di proposta dei mediatori per le materie fuori dall'obbligatorietà, cioè quelle senza condizioni di procedibilità. Questa maggiorazione del 20% in realtà non veniva spesso applicata, più che altro perché la proposta sortiva a migliori effetti nelle materie obbligatorie, nelle materie volontarie le parti tendono, proprio per il fatto che non sono obbligate a partecipare alla procedura di mediazione, a trovare più facilmente una soluzione condivisa se la mediazione ha un seguito e viene proceduta. Il fatto che il legislatore abbia scelto di togliere la maggiorazione sull'indenità di mediazione in merito per quanto riguarda la proposta dei mediatori, a mio avviso dà una maggiore rilevanza a quella che è la proposta. Già con la prassi uni e già comunque nell'interpretazione giurisprudenziale che si era data alla proposta di mediazione, era apparso particolarmente importante per i mediatori formulare questa proposta. Io credo che l'aver tolto la maggiorazione nell'indenità di mediazione per quanto riguarda questa forma di contributo dei mediatori alla procedura, sia di fatto la spiegazione o meglio l'intento del legislatore, nasconda l'intento del legislatore di farlo diventare un momento classico, un momento topico della mediazione. Quindi la proposta non sarà più l'evento eccezionale che prevede appunto una maggiorazione dell'indenità, quanto un evento quasi dovuto all'interno di una procedura di mediazione che non dovesse sortire gli effetti di trovare un accordo. Quindi io credo che il legislatore nel limitare, o meglio, anzi nel togliere definitivamente la maggiorazione sulla proposta, abbia voluto far passare il messaggio che la proposta è attività del mediatore ed è attività essenziale nell'ambito della procedura di mediazione, il che ci porta a considerare appunto come ultima razza, come estrema razza di una mediazione fallenda, quella di formulare una proposta ancorché non remunerata. Ok, questa è la mia opinione, ovviamente se avete opinioni diverse, ben contento di confrontarmi con chi ha esperienza di mediazione e chi vede l'interpretazione della norma in maniera diversa, certo è che anche questo comunque sarà, se è vero, uno strumento in più in mano ai mediatori, magari poi vedremo come lo interpreterà la giurisprudenza, ma senz'altro un limite dal punto di vista economico rispetto alla remunerazione del mediatore. Limite che comunque esce dalla porta ma rientra dalla finestra, perché se noi andiamo ad analizzare il decreto ministeriale, vediamo che troviamo per quanto riguarda le maggiorazioni rispetto all'indennità, all'articolo 32, che in caso di conciliazione, quindi anche qua vediamo che la proposta in realtà diventa parte fondamentale all'interno di una procedura di mediazione, una parte alla quale non si può rinunciare a mio avviso, tuttavia in caso di conciliazione, quindi vediamo qua la parte premiale che il legislatore vuole conferire a determinati strumenti modificativi delle tariffe di mediazione, in caso di conciliazione, quindi in caso in cui la mediazione dovesse raggiungere un accordo di mediazione, è prevista la maggiorazione fino al 20% dell'indennità di mediazione in caso di complessità. Quindi la complessità che nel passato veniva raramente applicata, perché con determinati presupposti i regolamenti degli organismi prevedevano l'applicabilità della maggiorazione, vediamo che nel caso di proposta, formulazione di una proposta che porti a un'accettazione, quindi una indubbiamente che tenga conto della complessità delle questioni e come dice la norma, non in base semplicemente al numero degli incontri, ma anche all'impegno che i mediatori hanno profuso, potrà essere prevista l'applicazione di una maggiorazione. Quindi vedete che in linea di massima un regolamento di un organismo che dovesse prevedere l'applicazione della complessità nel caso in cui la proposta dei mediatori venisse accettata, potrebbe tranquillamente rientrare in un regolamento plausibile anche nel rispetto dell'articolo 32 del decreto ministeriale 150. Volevo affrontare, ah, non dimentichiamo che comunque la maggiorazione per il raggiungimento dell'accordo comunque è prevista ancora nel decreto ministeriale 150 anche se in realtà avendo tolto l'incontro di programmazione e avendo fatto diventare a pagamento il primo incontro, il legislatore ha riservato alle parti che dovessero trovare un accordo al primo incontro, quindi risparmiando anche il tempo della procedura, quindi il tempo anche dei professionisti coinvolti, un accordo, dicevo, al primo incontro avranno una maggiorazione sì, ma limitata nella misura del 10%. Qualora viceversa l'accordo, la conciliazione si dovesse raggiungere negli incontri successivi al primo, in quel caso la maggiorazione sarà del 25%. Io credo che anche questo aspetto della norma possa essere conseguenza di una valutazione pratica. del lavoro più che altro del mediatore. È evidente che un impegno profuso del mediatore in incontri successivi al primo deve essere in qualche modo premiato e remunerato e soprattutto il fatto che il mediatore non si sia limitato al primo incontro a constatare la mancanza della volontà delle parti o l'incapacità delle parti di trovare un accordo, ma abbia insistito e magari anche cercato di convincere le parti a proseguire in un incontro successivo per la valutazione delle possibili proposte sul tavolo debba essere necessariamente premiato. Io credo che si confermi col decreto ministeriale 150 la volontà del legislatore di premiare il mediatore efficace, il mediatore che trova soluzioni e che trova accordi e questo non può che rendere merito e essere apprezzato dai mediatori che si prodigano nella ricerca di una soluzione e riescono a persuadere le parti, quindi riescono a mettere in campo tutti quegli strumenti della mediazione che permettono alle parti di evitare il ricorso all'autorità giudiziaria. Direi concludiamo qua la parte legata quantomeno alle tariffe, la parte generale delle tariffe, la prossima puntata ci dedicheremo a valutare quelli che sono gli scaglioni di riferimento e le modifiche che sono intervenute. Grazie per avermi seguito, ci vediamo alla prossima puntata e buona serata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.